Salve a tutti e ben ritrovati! Salve a tutti e ben ritrovati! Con questo nuovo appuntamento con Mirko Naira Di cosa parliamo oggi? Allora, intanto vi vorrei raccontare una cosa che mi è successa ieri Abbastanza divertente ma drammatica allo stesso tempo Allora, praticamente avevo nel forno E avevo lasciato nel forno A cucinare i sofficini Findus Niente, mentre si cucinavano ho detto Vabbè, mi vado a fare una doccia veloce così Il tempo che cuociono Io già sono pronto Niente, entro in doccia Chiudo la porta Da permettere che erano le 9 di sera Le 9.21 quindi buio totale fuori Chiudo la porta Apro l'acqua Un po' caldina perché fa un po' freschietto la sera Comincio a sciacquarmi Appena metto sulla testa Il cosino della doccia per bagnare i capelli A un certo punto resto al buio Cos'era successo? Praticamente avevo lasciato Forno, scaldabagno, luci Un sacco di cosa è successo e quindi Il contatore, diciamo Ha superato il suo massimo consentito E la luce si è staccata Quindi io mi sono ritrovato nella doccia Apparentemente nudo Con tutta la luce spente Da non vedere un palmo dal naso Con l'acqua ancora aperta Perché l'acqua ovviamente non va a luce La mia risoluzione Allora avevo tutti i vestiti già pronti Mutande, calzini, pantaloni Maglietta e felpa Li avevo tutti messi sopra il bordo del lavandino Come faccio sempre Allora cosa mi sono detto? Chiudo gli occhi E comincio a farmi la doccia Con gli occhi chiusi Cioè mi lavo la testa Mi lavo il corpo Eccetera eccetera Esco sempre con gli occhi chiusi dalla doccia Così Vado verso l'accappatoio La metto Vado verso il lavandino Comincio ad asciugarmi un po' i capelli Un po' il corpo Prendo le mutande Metto le mutande Prendo le calzette Metto la calzetta Uno, due Pantaloni Maglietta Eccetera eccetera Prendo il cotton fioc Pulisco le orecchie Prendo il phon Attacco il phon E faccio Cazzo vero Non lo posso fare C'è la luce spenta Allora cosa faccio? Stacco il phon Metto lì di lato Vado verso la porta del bagno Apro la porta del bagno E comincio ad uscire Prima però di andare ad accendere la luce nel fondo scala Che ricordo io sto al quarto piano Quindi sotto scala Da quando andavo a scendere tutte le scale Con i capelli bagnati Dovevo prima staccare Il forno O lo scaldabagno Io cosa ho fatto? Vado nella cucina Sempre ad occhi chiusi Tic 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 Giro la manopolina del forno Esco fuori dalla veranda Tic 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 Stacco il bottoncino dello scaldabagno Tic Tic Piano 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 Vado al Alla porta di casa Apro Lascio la porta aperta E comincio ad scendere Tic Non si accendono le luci Cazzo che cosa è succedo Ho bruciato qualcosa No troia ho bruciato qualcosa Non riuscirò più ad accendere la luce Mio padre mi ucciderà Allora cosa faccio Riscendo sotto Tic 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 Ascensore Arrivo là E il pulsante è accetto Cioè la levetta è alzata Arrivo un signore e mi fa Guarda secondo me ti si è staccato anche il salvavita a casa Per una questione di sicurezza Che onestamente non mi è mai successo Cioè si stacca sempre dal condatore ma non dal salvavita E allora cosa faccio Risalgo Ascensore Quarto piano Tic 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 Arrivo di nuovo al quarto piano Vado verso il condatore Verso il quadro del costo di emergenza Tic vum e scende Tic vum e scende Tic vum e scende Allorché mi sono ricordato Che c'è un fottutissimo pulsantino Che devi tenere premuto E poi si deve alzare Perciò premo il pulsantino Attacco E casa si accende magicamente Vado a asciugarmi i capelli ovviamente Dopodiché torno in cucina Accendo il forno E comincio a riscaldare i miei adorati sofficini E dopo qualche minuto finalmente ho mangiato il tutto Cioè per far tutto è passato magicamente un'ora Io pensavo di farmi dieci minuti di dolce In me c'è passata una fottudissima Ma va bene così Poi la seconda cosa che vi volevo dire Questa volta non è una storiella divertente che mi è capitata È come avete letto su Facebook e Twitter Ho iniziato il secondo progetto top secret Si so che sono un po' ripetitivo e un po' misterioso Però per adesso non posso parlarvene Quindi dirò top secret Riguardante il mondo Apple Con ciò per l'ennesima volta ripeto Che non vuol dire che sto lavorando per Apple Ma per qualcosa inerente al mondo Apple Vi dico solamente che sto lavorando per due marchi famosi Di cui non vi posso dire il nome purtroppo Per determinate cose che poi vi dirò Credo che il secondo ovvero questo che ho iniziato adesso Quindi da qualche giorno Ve lo potrò dire credo Fra 3-4 giorni Con un nuovo video O anche su Facebook e Twitter E vi dirò di cosa tratta praticamente Mentre il primo purtroppo ancora non ho il benestare Per fornirvi ulteriori dati Quindi vi dirò a tempo debito Non si sa ancora Per quelli che mi hanno chiesto Qual è l'argomentazione di cui parla Di cui parlano questi incarichi Diciamo top secret Non ve lo posso dire neanche Perché purtroppo mi hanno fatto firmare un'informativa sulla privacy E non posso dirvela Vi posso solo dire che sto collaborando con due marchi Molto famosi in Italia E vi ho detto tutto Per adesso non posso darvi altre informazioni Se volete saperne di più Su questi Diciamo esperimenti che mi stanno facendo fare Top secret Basta iscrivervi al canale O seguirmi su Facebook e Twitter E saprete nei prossimi video O nei miei stati Post o tweet eccetera Gli andamenti di questa cosa Avevamo intenzione Di passare il server dedicato Che abbiamo su applezain.net A un nuovo provider Il problema fondamentale è che Per effettuare tutto ciò Ci sarebbero un paio di giorni di blackout Se non una settimana Quindi stiamo valutando Quando fare ed effettuare Quest'operazione Quest'operazione cosa comporterà Oltre al blackout Per qualche giorno Sarà una settimana Ci sarà anche un cambio totale del tema Ve l'avevamo annunciato Circa un mese e mezzo fa Se non due mesi fa Del cambio del tema Solo che tra progetti e cose varie Non abbiamo potuto effettuare tutto ciò Prendiamo Anzi cogliamo la palla al balzo Ed effettuiamo tutto in un'unica botta Quindi quando ci sarà questa manutenzione Per il trasferimento del sito web In automatico potremo anche cambiare tema Credo che tutto ciò avvenga i primi di maggio Il tutto dovrà finire prima Dell'evento Apple Perché stiamo appunto ampliando Questo nostro server dedicato Cambiando provider E risparmiando qualcosina Appunto per darvi Il giorno 2 giugno Durante l'evento Da WWDC Il massimo Della Capienza utenti possibile L'anno scorso Per l'evento di iPhone 5S E iPad Air E iPad Mini Retina Il nostro sito È crashato Perché abbiamo superato Un botto diviso Di 2-3 mila utenti online Quindi Stavolta vogliamo riuscire a darvi Una copertura totale E vi ricordo che da noi In esclusiva Ci sarà Il live In diretta Dell'evento WWDC Dove verrà presentato iOS 8 In italiano tradotto E poi Dovrebbero presentare Il nuovo Mac OS 10.10 E forse Dico forse Il fantomatico iWatch Ultima cosa Sto collaborando Con un altro marchio Famoso Di cui non posso parlarvi Attualmente Per scrivere Un mio libro Allora Di cosa tratterà Questo libro Allora Praticamente La storia Incentrata Sulla mia vita E come sono arrivato A fare ciò Nel senso A gestire Una catena di blog A fare video E quant'altro E tutti gli aneddoti Sia belli Che brutti Che ho passato In questo tratto Di vita Quindi si parla Di quando ancora Andavo a scuola 4 anni fa Fino ad oggi Persone all'interno Dello staff Che hanno Rovinato Diciamo Il sito Rubato E quant'altro Tutto all'interno Di questo libro Qualche esperienza familiare La separazione Dei miei genitori Tante cose All'interno Di questo libro Lo sto iniziando Ce l'ho iniziato Qualche giorno fa Solo che è davvero Pesante Da fare E credo che Prima della fine Dell'estate Dovrei Finirlo Spero Spero Non saranno Un milione Di capitoli Non saranno Un milione Di pagine Credo Un centinaio Di pagine Forse Forse 150 Massimo Perché Non deve essere Una lettura Abbastanza pesante Il titolo L'ho scelto Ma non posso Dirvelo Perché La casa Produttrice Che con cui Sto collaborando Potrebbe Addirittura Scegliere Di cambiare Il titolo Come alcuni Contenuti Del Scusate Perciò Stavo dicendo Quindi La casa Produttrice Che mi sta Seguendo Potrebbe Cambiare Titolo Contenuto E quant'altro E io Devo sottostare Tutto ciò Quindi Attualmente Non vi posso dare Un titolo certo Non vi posso dare Una data certa Perché Saranno tutte cose Da decidere Al 100% Uscirà Prima L'edizione Digitale E se l'edizione Digitale va bene Uscirà L'edizione Cartacea Quindi Quando uscirà Vi prego di scaricarlo Anche perché Costerà Credo Poco Cioè Credo Un paio di euro Un libro Due tre euro Un libro Digitale Mi sembra Cioè Abbastanza regalato E spero tanto In un vostro sostegno Anche in tutto ciò Non mi resta che salutarvi Ci vediamo al prossimo video Sempre qui Con Mirko Nair Iscrivetevi Qua sopra Mettete mi piace Qua sotto E commentate Che mi piace tanto Quando mi commentate I video Ciao a tutti